Buonasera a tutti amici del CUN, bentornati al Tresina Stadium, mi sono Riccardo De Netto e stiamo per assistere ad Alcione Pescara Manzia, gara valevole per la settima giornata di Lega Statale. Alla capolista Alcione servono i tre punti decisivi per la qualificazione al trofeo degli Atenei, ma non sarà facile perché il Pescara Manzia è una squadra ostica e lotterà fino alla fine per provare ad accedere al playoff. Adesso Gragnani, Gragnani e bravissimo Scilunche, Pasquetti, Pasquetti va a giocare Balzarini, Balzarini, Balzarini col mancino esterno. Eccolo qui, ancora Mercanti, la gioca per Proietti, Proietti sul fondo. Specchio, poi Proietti recupera il pallone, Proietti, Proietti va via sua sinistra, Proietti sul fondo. Ecco, proprio passi li che dobbiamo mettere per il colpo di testa di Proietti, alto. Batterà proprio il numero 6, Gragnani, cross in mezzo, colpo di testa di Oxai! Eccolo, il vantaggio dell'Alcione con il suo Panzer, Oxai! 1-0, ecco la torre che accelera. La torre, la torre. Gran palla per Mercanti, Mercanti, tutto solo Mercanti! Il pareggio del Pescara-Vanzia, eccolo, il numero 10! Mercanti, 1-1, partita di nuovo in parità. Adesso proprio il numero 4 dell'Alcione recupera questa palla per Balzarini! Che cosa si è inventato Balzarini? 2-1, Passeri, si gira Passeri, si fiora il palo. Gragnani alza la testa, vede l'inserimento di Balzarini, troppo lungo Scilunche. Finisce qua il primo tempo, parziale 2-1 per l'Alcione. Le reti sono del numero 4, Xaie, di Balzarini. Per il Pescara-Vanzia, la rete di Mercanti. Squadra in campo per la ripresa, Russo con il fischetto alla mano. Il calcio inizio di questo secondo tempo, lo batterà il Pescara-Vanzia. Ecco la mina di Passeri, finisce facilmente fra le braccia di Dauria. Da lungo per Proietti che l'aggancia. Proietti si gira, Proietti, Proietti, la finta, Proietti, Proietti, il diagonale sul fondo. Bella occasione questa. Mercanti, gran velo. E poi Proietti, Proietti, Proietti col mancino! 2-2, parità ancora, Proietti, il numero 99, il cassano della situazione. Pareggio. Ecco tutto pronto, si sgancia Balzarini. Gragnani la gioca per Infante che la cicca tutto solo. Sul fondo. Balzarini, 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 protegge il ballone. Balzarini, Balzarini. Prova troppo, la schiera è troppo, Balzarini. Ripartenza Pescara-Avanzia con Mercanti, Mercanti, Mercanti col mancino! Mercanti, il Pescara-Avanzia in vantaggio! La doppietta del numero 10. Clamorosa il Tresino Stadium. Alcione 2, Pescara-Avanzia 3. Pasquetti, Pasquetti, va via Pasquetti. Palla per Gragnani, Gragnani prova a passare. Si invola praticamente. E la diffusione di Pescara-Avanzia. Poi Mercanti, Mercanti, Mercanti. La gioca per Proietti sul fondo. Ecco, Specchio. Cercare Proietti, bravo in qualche maniera. Urso che poi però regala il pallone a Mercanti. Mercanti poi la cicca, succede qualcosa. Proietti entra in aria. Proietti, balla per Mercanti. La parata stavolta di Dauria. Dauria stavolta è super. Ecco Infante che allarga per Urso. Urso alza la testa. La gioca per Balzarini. Balzarini! Schlunch! In corner. Gran parata qui del numero 69. Parte Gragnani. Sfiora la traversa, finisce alto. Ecco Gragnani. Il triangolo forse è troppo lungo per Balzarini. Che non si guadagna nulla. No, la palla è ancora buona. Balzarini, va via Balzarini. La tocca per Gragnani. Che spara alto, porta vuota. Occasione al Cione. Proietti, 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 Proietti. Sul fondo. Poi Murgola alimenta l'azione. No, sbaglia il controllo. Quindi Mercanti. Sombrero di Mercanti. Mercanti prova ad andare via. Mercanti. Palla per Proietti. Attenzione, resta la ripartenza del Pescara-Manzia. Proietti. Proietti, tra l'aria Proietti. Proietti. Palla fuori. Proietti. Proietti. Uno contro uno con Infante. Proietti, Proietti. Se lo spassa sul Mancino. E Dauria. In corner. In corner. Probabilmente saranno gli studenti di questa ultima gara. Incredibile. Al Tresina Stadium. L'alcione perde 3-2 contro il Pescara-Manzia. Le reti per il Pescara-Manzia sono la doppietta di Mercanti e la rete di Proietti. A nulla servono le reti. Il grandissimo gol, fra l'altro, di Balzadini e la rete di Oxai.